A Palazzo San Giacomo si sono incontrati questa mattina atleti e personalità dello sport napoletano per brindare all'anno nuovo assieme all'assessora Emanuela Ferrante. Sì, oggi abbiamo ricominciato la tradizione che si era interrotta l'anno scorso a causa della pandemia, quindi è bello vedere davvero tutto il mondo sportivo napoletano, tutti i rappresentanti delle federazioni e delle associazioni sportive qui per fare un piccolo bilancio dell'anno passato e soprattutto poi per lanciare la sfida di Napoli, capitale europea dello sport 2026, per la quale naturalmente per raggiungere l'obiettivo avremo bisogno ovviamente di tutti loro e quindi è davvero anche un appello a tutti gli sportivi napoletani darci una mano per realizzare questo ambitissimo obiettivo.